18 ore di trattativa tra Arcelor, Mittal e sindacati per strappare 400 assunzioni in più rispetto alle 10.300 proposte dalla nuova proprietà dell'ILVA. 10.700 saranno i lavoratori che riceveranno una proposta da Mittal e tutti saranno assunti con l'articolo 18 e non con il Jobs Act. Il miglior risultato possibile lo definisce il ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio, che sulla gara per la cessione dell'ILVA nelle scorse settimane aveva parlato di delitto perfetto compiuto dal precedente governo e per giorni era stata anche alleggiata la possibilità di annullare quella gara con la quale Arcelor Mittal ha acquisito il siderurgico ionico sino alla soluzione arrivata al termine di una trattativa durissima per dirla con le parole del segretario generale della CGL Puglia, Pino Gesmundo. Confronto cominciato nel pomeriggio di mercoledì nella sede del Mise a Roma e che si è protratto per 18 ore. Oltre alle 10.700 assunzioni, l'intesa prevede un piano di incentivi all'esodo, volontario e anticipato, con una somma di 100.000 euro lordi per il lavoratore disponibile ad andare subito via. Entro il 2023 c'è l'impegno ad assumere tutti gli altri senza nessuna penalizzazione su salari e diritti, fa sapere la segretaria generale della FIOM Francesca Reddavid. Sicuramente abbiamo bisogno di far esprimere i lavoratori su questo accordo, aggiunge ancora Gesmundo. Ci sarà un referendum che sancirà l'accordo in maniera definitiva. Alla soddisfazione dei sindacati, che annunciano anche la possibilità di riavocare lo sciopero indetto per il prossimo 11 settembre, si contrappongono le critiche degli ambientalisti. Il verde Angelo Bonelli attacca il vicepremier Di Maio, prende i voti e scappa, dichiara. In campagna elettorale aveva promesso ai tarantini la riconversione ecologica dell'Ilva. Oggi invece ha voltato le spalle a tutta la città.